ehi la oggi c'è una grande novità per te teppista da stadio la enemy mask cioè la maschera del nemico come funziona facile mandaci una foto del tuo più acerrimo nemico e noi ti faremo in breve tempo una sua maschera perfetta in puro lattice che tu potrai mettere in testa quando le telecamere dello stadio ti stanno inquadrando divertiti a sprangare a sradicare seggiolini in tribuna a lanciare i motorini dal terzo anello a fare esplodere bombe carta a caricare la polizia accendere falò in curva a esporre strigioni razzisti divertiti a fare tutto questo tanto andranno ad arrestare il tuo nemico ordina subito la tua enemy mask glabra 40 euro coi capelli 60 euro www.enemymask.it per il vero teppista da stadio a